E se tutto ciò che reputiamo inadeguato o in disuso si rivelasse improvvisamente, artisticamente bello e degno di attenzione? Se le opere d'arte fossero messe in bella mostra in luoghi dimenticati e abbandonati, proiettati in una chiave desueta e nuova? Fatta a Papescara la mostra collettiva nazionale sull'inadeguatezza. L'inadeguato è una mostra collettiva nazionale che non nasce qui a Pescara ma nasce in Sardegna dalla volontà di un'artista sarda, Iole Serreri, di lanciare quest'idea dell'inadeguatezza come mezzo espressivo, quindi come sentimento comune che ognuno di noi nella vita ha vissuto, che però ispira gli artisti per realizzare un'opera, un'opera artistica e sono opere polimateriche. Abbiamo a Pescara riaperto il bando, ho avuto in questo senso un grandissimo successo perché il bando non è passato per canali ufficiali ma veramente c'è stato un passaparola fra gli artisti. Questo mi ha consentito di arrivare a una selezione di 38 artisti nuovi che si aggiungono ai 46 precedenti e che raccolgono veramente le realtà artistiche più di spicco della nostra regione, del nostro territorio. Come ogni innovazione non esistono regole fisse, solo esplorazione e sperimentazione che raccoglie consensi da un nutrito gruppo di artisti pronti a stupire dal 21 febbraio al 7 marzo in un luogo ovviamente inadeguato. Ma inadeguate anche perché verranno messe su un muro abbastanza storto e inadeguate anche per il costo della partecipazione a questa mostra. Oggi la riflessione da fare è che molti di noi in ciascun ambito della nostra vita ci sentiamo inadeguati. Ecco, questa è la riflessione che noi vogliamo veicolare alla città e sicuramente queste opere ci aiutano a mettere in mostra degli artisti che non fanno parte dei soliti circuiti noti della città di Pescara, ma tante persone che hanno grande inventiva e che in questa inadeguatezza possono trovare spazio per veicolare le loro idee.